Stanno arrivando di scombino a godere su Vuota Unica che dopo saranno caricati su Carrietta Unica. E' quei pochi che siamo, tra virgolette, quelli che io definisco migliori. Li possiamo andare a vedere e ci divertiamo. Questo era il numero secco, Vuota Unica, Roma 23. Eccolo qua. Qui c'è anche il messaggio. Grazie professore, anzi da tutti e due i metodi, sia dall'ampata della doppia vincita, dall'estratto della stessa decina. Grazie. E' quindi un esercito di persone all'incassa, che sono quell'esercito di persone che hanno preso i miei due gioielli su Ruota Unica, perché non c'è cosa più bella, amici miei, giocare su Ruota Unica. Una cosa bellissima. Ovviamente quelli ai Rambosicchi, ma questi dormono, questi dormono. C'hanno i due muscoli, ma dormono. Il secondo numero era il 17, ma questi dormono. Erano solo due numeri a Roma. Il 17, quello ha giocato solo il Venere. C'è due numeri su una ruota. Non ne parliamo, lasciamo stare. Gli altri che l'hanno vinto, quest'unico Ambo, saranno tutti caricati sulla piattatura. Ad essendo un solo Ambo, ci saranno veramente Di tutte orazioni, le tendency rischi mi sono Ourapositive.